Allora ragazzotti miei, oggi pomeriggio c'è l'amichevole tra Lecce e Bocum Questa nuova squadra proverà a fare questa amichevole Nel frattempo volevo dirvi quali sono stati gli acquisti ufficiali fatti da Lecce A partire da Frabotta che sarà un nuovo difensore, sicuramente titolare Poi si comprano anche un attaccante che la scorsa stagione è stato il vice capogannoniere della Svizzera Ha vinto anche il campionato ed è Cesai L'ultimo è un nuovo portiere, Brancolini Probabilmente la prossima stagione giocherà come titolare Ha firmato un contratto quinquennale Chi vencerà questa amichevole fatelo sapere qui sotto nei commenti Ciao belli, ciao ciao ciao